Salve a tutti, sono qua per ringraziare il mio canale YouTube perché abbiamo raggiunto finalmente i 100 iscritti, un bel applauso signori, sono contentissimo di questa cosa, vi ringrazio tutti per il sostegno che mi date nel mio intento, vi ringrazio ancora e non so che cazzo dire ragazzi, grazie mille per i 100 iscritti, continuerò a mettere video, vi avviso che però da questo lunedì comincerò a lavorare quindi sarà un po' problematico il fatto dell'upload dei video, comunque cercherò di fare del mio meglio, grazie ancora, alla prossima!